Sì, ma è Cianuro, eccolo sul palco. Bella per Cianuro. Allora, classico. Come si diceva, pari a Kisperi. Facciamo bim-bom-bam. Sì, ma pari a Kisperi. Eh, pari se te, no? Bim-bom-bam. Cispo e Kisperi, mi è cominciato. Ok, allora comincia Sì, ma risponde Cianuro. 5-2 minuti, 5-4 guardi a testa. Go! Oh, mi conceda. E' confuso il bim-bom-bam. Di pure via miscela. Fisto vai tranquillo, non paghi. Come cazzo vuoi che inizia? Vuoi tirare tu e la lati? Riconosci, questa non mi tocca. Prima lezione, il microfono vicino allo buco. Seconda lezione, non si dare Cian. Che vuoi si privare di un trago. Ok, ho capito, questo è incazzato. Ficca l'ha capito tutti che sei ritassato. Fisto vai tranquillo, vuoi i fiumali che cazzo? Vuoi il che ti invita a ruota al cuore. Riconosci Cianuro, rebbe scomparsi. Non sono incantato, mi dà fastidio di scarsi. Oh, scusa il zio, forse solo, sono un problema mio. Fisto vai tranquillo, faccio vista tutte le sere. Sì, riconosco, sei bello che ha ucciso il pancicchiere. Fisto vai tranquillo, non pesta. Cazzo vuole fare, tagliati quella cazzo di cresta. Oh, riconosci la mia cazzo di cresta? Serve per tenere insieme la testa. Riconosci? Io faccio rap, questo non strago con i miei grab. Fisto vai tranquillo, vai via. Che cazzo vuoi fare, ragazzi, a tv in via? Vai tranquillo, vai via da qui. Ce l'è tu la maglia, ma ti schiaccio io, Shaquille O'Neal. Oh, Shaquille O'Neal, io rappo sul beat. C'è l'ora di qua come un cazzo di trinco. Riconosci, questa roba vibra. Tu sei una schiacciata, io sono una trinco. Fisto in produzione, fisto in produzione. Come cazzo hai passato l'eliminazione? Fisto vai tranquillo, vuoi fare un po' di rap. Non ho un piatto, per te ci vuol pietà. Yeah, yeah, riconosci, cianuro è tutto fatto, d'MD. Quelli come te sanno la vergogna di avvenire. Arrivo con questa storia, circondano il cianuro che sbaglia dentro la piazza. Quanto mi rossi, è improvvisato, sciallato, frega un cazzo di quanto sei riparticato. Fisto vai tranquillo, no, ma da questa scelta fatti un po' di erba. Yeah, yeah, riconosci com'è nel futuro prossimo. Io sono tossico, tu rifiuto tossico. Quanto conosci, però di tirato, li ho rifiuto lo scarico, no. Tranquillo, frate normale, di no a lui come no al nucleare. Yeah. E allora, Sima e Cianuro. È partito Sima e ha risposto a Cianuro. Se mi è piaciuto di più Sima, fare cacere a questo tre. Uno, due, tre. Mentre, se vi è piaciuto di più Cianuro, fate cacere a questo tre. Uno, due, tre. Ok, passa il turno, Cianuro. Allora, qui è il primo. Non, non, no, non, no, non, no, eh. Grazie a tutti.